Grazie di cuore a tutti, buongiorno. Scusate se vi disturbiamo dal vostro lavoro, se vi distogliamo dal vostro lavoro per qualche minuto. Signora Presidente, signor Presidente del San Raffaele, signor Amministratore Delegato, autorità tutte, operatori della sanità, studenti, a tutti voi un pensiero, un saluto carico di gratitudine per quello che fate. Ho fatto un giro molto molto rapido. Abbiamo incontrato Martina, la dico per ultima, la dico per prima anche se l'ho incontrata per ultima, studentessa bresciana, ex studentessa, si è laureata oggi ed era a festeggiare con il nonno a cui è spuntata anche una lacrimuccia di gioia perché mi ha detto una bella soddisfazione, è vero. Ho incontrato una signora che si è rivolta anche in modo molto duro, dicendo mio marito ha un cancro da dieci mesi, una signora di Novate milanese. Ho incontrato la mamma di un ragazzo calabrese che tre mesi fa, è qui da tre mesi e che negli ultimi giorni ha finalmente potuto fare l'operazione di trapianto di midollo. Ho visto il reparto di urologia, mi è stato dipinto come uno dei reparti top a livello europeo. Il primario ha detto no, no, stiamo bassi, con umiltà, con determinazione, ma ho visto il suo team e ho incontrato storie diverse, dal ragazzo di Napoli che è qua da qualche mese alle persone che erano semplicemente a fare una visita ambulatoriale. Ho visto cioè la normalità delle storie di tutti i giorni di ciascuno di noi, ciascuno di noi sa che cosa significa avere un rapporto con la salute quotidiano, settimanale, difficile anche talvolta, qualche familiare che non ce la fa. E però nella normalità ho visto anche l'eccellenza. Voi vi aspettate che adesso dica di San Raffaele? E io vi frego, perché lo dirò, ma tra poco. Prima dico l'eccellenza italiana. Noi abbiamo come Paese molti difetti, ce li raccontano tutti i giorni, arrivo a dire ce li raccontiamo tutti i giorni, ed è giusto ed è utile perché bisogna cambiare. Quando c'è un problema non si può far finta di niente, non si può mettere la polvere sotto il tappeto, bisogna avere il coraggio di dirlo. Ma a fronte di questi problemi che l'Italia ha e che con minore o maggiore efficacia stiamo cercando di risolvere e di finalmente cambiare, c'è però un Paese che è un Paese in questo settore che è tra i più forti al mondo. E se non acquisisce la consapevolezza di dover giocare questa partita a livello internazionale, si ridurrà nei prossimi dieci anni, vent'anni a fare una guerra in Serie B, a giocare tra le varie regioni il campionato di Serie B. Io penso che l'Italia nel settore della sanità, nel settore della ricerca legata alla sanità, nel settore dell'innovazione e quando dico sanità dico qualità della vita, dico stili di vita, dico farmaceutico, dico naturalmente poi tutto ciò che ha a che vedere con la professione sanitaria, l'infermiere, il medico, il ricercatore, la qualità dell'umanità che l'Italia e gli italiani, che le nostre donne e uomini che lavorano nelle sanità mettono in campo, che ha pochi paragoni al mondo, io dico che l'Italia può giocare in Serie A, può giocare la partita di leadership globale, internazionale, più correttamente direi la Champions League più che la Serie A per utilizzare un paragone calcistico. Perché questo? Perché è un dato di fatto vero. Abbiamo un paese che è un paese in cui si vive più che negli altri, siamo il secondo paese per longevità al mondo, abbiamo delle eccellenze di capitale umano che dobbiamo probabilmente valorizzare di più, uscendo dalla logica, dalla retorica dei cervelli in fuga. Perché è vero che qualcuno se ne va, nel mondo globale è vero, è normale, arrivo a dire persino positivo che ci sia uno scambio internazionale. Ma non è che chi rimane qui non è un cervello, non è che chi rimane qui è uno che non ce l'ha fatta. Perché in questo racconto autodistruttivo che abbiamo fatto negli ultimi anni, sembra che l'Italia sia diventato il posto dove non succede mai niente, dove non ci sono punti di eccellenza. Allora l'Italia è questo. Per farlo naturalmente l'Italia deve cambiare alcune cose, deve smetterla. Ha ragione Nicola Bedin con i tagli lineari. Io dico che sulla sanità, so che dico una cosa che non è popolarissima, ma è evidente che si è già tagliato anche troppo, nel senso che noi abbiamo in questo momento 112 miliardi sul fondo sanitario. Erano 106 due anni fa. Quindi siamo tornati a risalire. Se è vero che ci sono degli sprechi, perché è naturale, è fisiologico che uno si arrabbi se vede la famosa siringa costare in un certo modo a Milano o a Reggio Calabria e quindi è fisiologico che ci sia una reazione di chi dice, ehi, non si specula sulla pelle dei malati, è anche altrettanto vero che la nostra spesa sul PIL per la sanità non è una spesa più alta degli altri paesi. Ma bisogna fare una scommessa che parta dall'inizio, che parta dalla scuola, dalla prevenzione a scuola, dal modo di concepire i corretti comportamenti dal punto di vista della vita quotidiana, e però contemporaneamente valorizzare le tante professionalità donne e uomini che decidono di investire la loro vita a servizio degli altri. Perché c'è un di più di umanità nel fare la professione del medico, nella professione dell'infermiere, che io apprezzo. Perché oggi una signora uscendo aveva avuto una piccola operazione, ha detto, signora tenga duro, e lei mi ha detto, tenga duro lei, eh, che è più importante. E io le ho detto, aveva tra l'altro un cerotto in testa, se era quindi fatto qualcosa, ha detto, signora è più importante lei, perché la salute è più importante della politica. Sì, ma lei deve tenere duro per tutti, io solo per me. E questa è anche la bellezza delle persone. Ma al di là della bellezza delle persone, il punto chiave è che noi dobbiamo mettere al centro la questione della salute dell'Italia allo stesso piano. Ecco, Human Technopole, il grande progetto nell'area post-expo. I migliori ricercatori devono venire a Milano. Devono pensare che Milano se la batte con le altre grandi realtà, con Boston o con l'area di Chicago o con i nuovi centri di ricerca di Singapore. Devono avere consapevolezza che Milano è questa. Ecco perché con Milano porteremo avanti la candidatura per l'Agenzia del farmaco a livello europeo. Prima ancora che per la borsa, io siamo d'accordo con, devo dire con tutti, siamo d'accordo con il sindaco e col presidente della regione, quindi con loro i politici diversi. Abbiamo detto, non puntiamo necessariamente alla candidatura alle grandi istituzioni finanziarie, puntiamo alla candidatura sulla sanità e sul farmaco. E contemporaneamente deve essere un luogo in cui i centri d'eccellenza universitari siano messi in condizioni di agire senza troppi vincoli burocratici e senza troppi limiti alla ricerca. Allora qui vengo a San Raffaele e chiudo su questo. San Raffaele è oggettivamente un'eccellenza straordinaria. Ha una storia che tutti conoscono, l'intuizione per molti aspetti geniale e folle di un sacerdote che si dimostrò visionario in quel disegno che aveva. Ha avuto i problemi che tutti noi sappiamo. Sono grato alla famiglia Rotelli per aver scelto di investire in questa struttura. Sono grato al management per aver fatto un'operazione di salvataggio di questa realtà che poteva diventare un'altra realtà, perché ricordate tutti i conti erano quelli che erano totalmente sballati, poteva diventare un'altra realtà andata, persa. Oggi però la sfida del San Raffaele, a tutti i livelli, è quella di portare e spingere l'Italia a puntare più in alto di quello che la discussione quotidiana italiana solitamente ci fa fare. Io lo so, il pensiero immediato che viene fatto dopo questi discorsi. Ah, ma lui, pensi a fare le riforme, pensi al lavoro, pensi a... Sono anni che alla politica chiedono di fare le riforme. Giusto, vanno fatte. Ma quello che è mancato in questi ultimi vent'anni non è soltanto un elengo concreto, quotidiano di cose da fare, ma la dimensione della visione. dove sarà l'Italia dei prossimi vent'anni? Io credo che nei prossimi vent'anni il mondo che ci aspetta è un mondo totalmente trasformato. L'innovazione tecnologica, l'innovazione in sanità, gli investimenti dalle neuroscienze fino semplicemente alla domotica, arrivo a dire alle cose più banali, quotidiane della vita in casa, trasformeranno il nostro modo di vivere più di quanto la tecnologia abbia trasformato gli ultimi vent'anni. E pensate a quanto i telefonini e la diffusione di internet hanno cambiato la quotidianità della nostra esistenza. Bene, io sono certo che nei prossimi vent'anni il mondo cambierà più forte. C'è bisogno di un'Europa che non sia con la testa rivolta al passato. E noi combattiamo per questo, per un'Europa che abbia la testa rivolta al futuro. Ma c'è bisogno anche di una classe politica che abbia il sapore e l'orizzonte della visione. Da qui ai prossimi vent'anni il mondo che ci aspetta non è un mondo più preoccupante, è un mondo più bello. È un mondo in cui il progresso avrà delle ricadute negative, non c'è dubbio, avrà dei nuovi perdenti, non c'è dubbio. Ma è una straordinaria opportunità per chi avrà la forza e la volontà di crederci. Allora, Nicola Bedin, che conosco da qualche tempo e che so essere particolarmente concreto, ha fatto giustamente l'elenco delle cose che chiede al Governo. Ti dico e vi dico che noi ci lavoriamo. È finito il tempo dei tagli in sanità, dobbiamo però saper gestire in modo diverso il tema dei costi standard nella sanità, perché è ovvio. Non c'è nessuna preclusione ideologica verso le realtà dell'eccellenza, anzi, ma contemporaneamente sono qui a chiedere io una cosa a voi. Così ti frego, Nicola. La cosa che vi chiedo è di dimostrare all'Italia che si può puntare in alto e sognare in grande. Questo non è in contraddizione alla dimensione quotidiana che in una corsia d'ospedale è quasi sempre una dimensione di dolore. Io ho un apprezzamento pazzesco per i medici e gli infermieri che hanno una forza d'animo che è straordinaria, altro che la politica, perché riuscire tutti i giorni non soltanto a affrontare un problema, che evidentemente fare una diagnosi, cercare di intervenire, non è una cosa semplice, ma farlo con l'umanità. Di chissà che dall'altra parte del lettino non ha un numero, non ha un esperimento, non ha un test, ha una persona in carne e ossa che ha delle reazioni, che ha una dimensione di emozione, di vita quotidiana, ma in questa dimensione deve esserci la forza di portare l'Italia a puntare in alto. Non accontentiamoci di chi ci dice che il tempo dell'Italia è soltanto al passato. Avremo i nostri difetti, avremo i nostri limiti, faremo i nostri sbagli, ma quello che dimostra anche la storia del San Raffaele è che di fronte a una difficoltà si può ripartire a condizioni di puntare in alto, di puntare forte, di puntare all'eccellenza. È quello che dobbiamo fare per tutto il Paese. E allora il mio è un arrivederci per la prima pietra del nuovo pronto soccorso, che pare anche molto bello dal punto di vista estetico. Ebbè, la bellezza, io vengo da una città in cui l'ospedale degli innocenti l'hanno fatto fare a Brunelleschi, per cui insomma noi ce la tiriamo un po'. Però attenzione, attenzione perché questa è una cosa straordinaria. Brunelleschi gli hanno fatto fare il salone nell'ospedale degli innocenti come scelta politica. Brunelleschi è quello che ha fatto la cupola, con tutti i fiorentini che dicevano, non starà mica in piedi, e lui ce l'ha fatta, con i fiorentini che gufavano, si sarebbe detto. Ma gli hanno anche fatto fare il luogo dell'accoglienza degli ultimi. Gli innocenti, innocenti è come, non so come si dice a Milano, esposito a Napoli, i bambini abbandonati, erano quelli che venivano, i frutti della colpa venivano lasciati nella ruota degli innocenti. Hanno scelto il grande architetto perché anche il luogo del dolore è un luogo di bellezza. È una straordinaria metafora anche oggi. Ci diamo l'appuntamento per la prima pietra del pronto soccorso, ma ci diamo soprattutto appuntamento perché nel grande progetto di Tecnopol ci si possa vedere quello che c'è. La spinta a Milano a essere punto di riferimento per l'intero Paese e la spinta all'Italia per non accontentarsi di giocare alla meno, puntare in alto. Noi col San Raffaele ci siamo, in bocca al lupo per il vostro lavoro, grazie alle infermiere, ai medici, a chi segue quotidianamente questa straordinaria esperienza che è la cura e il rapporto con gli altri. È un gigantesco in bocca al lupo agli studenti. Ne ho incontrati alcuni oggi, da Bolzano alla Sicilia. Ho incontrato quelli di psicologia che mi hanno fatto una dura reprimenda sulla mancata consapevolezza del ruolo dello psicologo nella società italiana. Sono d'accordo, mi smette di dire ma vai dallo psicologo. Cioè è una cosa che è vero, non ci rivedete perché è vero, è un atteggiamento sbagliato. E poi ho incontrato anche una signora, pensate un po', di Arquata del Tronto, il luogo del terremoto e mi ha detto, sono qui ma il mio pensiero è al mio paese. Bene, oggi è stata una bellissima per me oretta di camminata nelle vostre corsie. Il mio invito, il mio appello è dateci una mano perché l'Italia punti in grande. Grazie, viva San Raffaele e viva l'Italia!